Come si può resistere al profumo della crostata appena sfornata? Un dolce classico e intramontabile che piace sia ai bambini che ai grandi. Puoi farcirla con la marmellata che preferisci e il risultato sarà sempre un successone. Vediamo come fare. Ingredienti 300 g di farina 100 g di zucchero 90 g di burro 2 uova 1 limone 1 cucchiaino di lievito per dolci 1 vasetto di marmellata Forma una fontana con la farina. Aggiungi lo zucchero, il burro, le uova, la scorza grattugiata del limone e il lievito al centro della farina, impastando velocemente. Forma una palla con l'impasto e avvolgila nella carta trasparente. Lasciala riposare in frigo per almeno 30 minuti. Stendi una sfoglia di 4 cm e adagiala in una teglia precedentemente imburrata. Distribuisci sopra uno strato di marmellata e coprila con striscioline di pasta frolla. In forna per 40 minuti a 180 gradi. Consigli Se vuoi preparare una crostata dietetica puoi sostituire al burro 120 ml di olio extravergine di oliva. Buon appetito e alla prossima videoricetta! Se ti è piaciuta questa ricetta, clicca il pulsante mi piace. Iscriviti al mio canale YouTube, ti aggiornerò su tutte le nuove videoricette. Stai su Facebook? All'indirizzo qui sotto trovi tantissime videoricette e una community di appassionati di cucina. E ora, cosa vuoi preparare? Buon appetito!